Io sono stata convocata dal presidente Crocetta che aveva ricevuto questa riservata dei beni culturali il 29 agosto alla ripresa diciamo dei nostri lavori in giunta e quindi un venerdì e lì mi è stato appunto presentato questo dossier, mi è stato detto che mi erano, soprattutto la Basile perché in realtà questo non è ovviamente un dossier, è vero appunto per alcune irregolarità diciamo amministrative della dottoressa Basile, della soprintendente di Siracusa, la cui storia personale conosciamo anche molto bene ed è del tutto di una persona, di un cittadino onesto e quindi le venivano imputate questi vizi amministrativi e io ho detto al presidente proprio per l'enormità l'enormità di quello che mi sembrava di leggere, ho detto al presidente guarda io credo che la cosa migliore sia che tu mandi tutto alla procura. C'è evidentemente un preciso obiettivo che è quello di delegittimare il mio operato, delegittimare anche le scelte che sono state fatte durante l'assessorato, il ruolo, la delega, l'assessore dei beni culturali. Un po' questa atmosfera pesante io l'ho sentita, non pensavo completamente che si potesse costruire una macchina del fango su questa vicenda, però alla luce di quello che ho sentito attorno a me, soprattutto ad agosto, devo dire poi alla fine anche del clima che si respirava in soprintendenza, alla fine era quasi inevitabile che succedesse. Mi è piaciuto, mi sono molto commossa ieri anche ad alcuni commenti che sono stati fatti rispetto alla difficoltà politica che stiamo attraversando, perché poi dal personale andiamo anche più al generale, è evidente che noi stiamo attraversando un momento politico molto difficile e che quindi all'interno di questo momento politico difficile possano trovare spazio anche storie come quella mia. Devo dire che è un po' il sistema anche interno della dirigenza, della burocrazia che è messa in discussione, che si sta in qualche modo allentando, le cui maglie si stanno molto allentando. È un sistema chiuso, è un sistema... Adesso c'è un disorientamento generale, no? E di fronte a questo disorientamento capisco che anche all'interno dei dipartimenti, degli assessorati, io lo vedevo ieri anche nelle persone che lavorano lì, nei dirigenti, c'è un senso di malessere. Io mi sono sempre opposta in queste settimane, no? Perché questa vicenda della piscina abusiva, della piscina... Mi sono sempre opposta in questo... Poi addirittura Libero che diceva che l'avevo smontata di fretta e furia perché avevo timore, no? Che poi questo è anche contraddittorio perché significa allora che si poteva smontare, quindi devo dire... Alla fine chi ha fatto questa foto e chi ha violato la mia privacy, perché così è stato, io non volevo comunque presentarla perché dicevo, beh, io dico quello che dico, poi sarà la magistratura e via dicendo. Alla fine forse mi ha fatto anche un favore, cioè ha fatto quello che forse era giusto fare e che io non ho voluto fare in tutte queste settimane. Grazie a tutti!